Una grande mostra sull'Antico Egitto, soprattutto la prima per quanto riguarda il Piemonte, è allestita ad Arona, in piazza davanti alla stazione, piazza Vidale, piazza Ducca d'Aosta, piazza della stazione, grazie alla Proloco. Si tratta di una mostra di lavori di carcerati che hanno fatto uno studio sull'Antico Egitto. Sì, è la seconda edizione di questa rassegna museale curata dalla direzione del Museo Egizio che ha coinvolto quest'anno l'UMPLI regionale per portare questa mostra itinerante e noi con grande orgoglio e felicità abbiamo accolto qui a Darona la prima tappa di questo percorso che poi coinvolgerà numerose altre Proloco in tutta la regione Piemonte. Diciamo che questo è un lavoro che ha un duplice significato. Innanzitutto, triplice direi, esaltare quello che è stata la civiltà egiziana, esaltare il lavoro dei carcerati che tutto sommato hanno bisogno di fare qualcosa mentre si trovano a scontare la pena, ma soprattutto anche per Darona una mostra di qualità. Sì, è vero, coinvolge vari aspetti dal sociale al culturale, secondo me sono quelle iniziative dove la sinergia tra vari enti porta sicuramente a fare attività di grosso spessore. E poi, ripeto, il fatto che Darona sia stata scelta come inizio di questo percorso non possiamo che essere orgogliosi ed è un'ulteriore testimonianza che la nostra città negli ultimi anni, grazie a tutti, dall'amministrazione comunale a tutte le associazioni che operano sul territorio, riscuote sempre grandi interesse per ogni iniziativa che viene fatta. La Proloco di Darona si sta lanciando di nuovo, come l'ho sempre fatto. Avete rapporti anche con le Proloco vicine? La Proloco di Darona si è fermata come tutte le attività negli ultimi due anni. Non ci siamo mai fermati perché siamo stati tra i pochi a riuscire a fare determinate manifestazioni, faccio l'esempio della traversata. Ritengo personalmente, e ho la fortuna anche di far parte del Consiglio Provinciale dell'UMPLI, che questa attività di sinergie con varie Proloco è sicuramente un percorso da portare avanti.